E' stato un errore e non un'esecuzione. Sono 16 pagine del GIP Ludovica Mancini a fornire le motivazioni della sentenza con la quale il militare che dopo un inseguimento tra le strade del rione Traiano a Napoli nella notte tra il 4 e il 5 settembre del 2014 sparò al 17enne Davide Bifolco. E' stato condannato alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio colposo, oltre al risarcimento per i familiari della vittima. Non voleva sparare in assoluto, scrive il giudice Mancini. Il proiettile che colpì Davide partì improvvisamente. Sottolinea però il GIP l'esplosione non fu evitata, a causa di una grave imprudenza e imperizia, da parte del carabiniere, accompagnata dalla cosiddetta violazione dell'obbligo di sicura padronanza e adeguata capacità di impiego delle armi, e cioè il mancato inserimento della sicura alla pistola. Le cose andarono così. La pattuglia dei carabinieri incrociò un motorino con tre persone in sella. Convinti che fra i passeggeri ci fosse ricercato Arturo Equabile, in quel momento latitante, intimarono l'alte e si misero all'inseguimento del motorino. La corsa terminò poco dopo. Sceso dall'auto il carabiniere impugnò l'arma con il colpo in canna. Nella ricostruzione del giudice la situazione non era tale da giustificare il caricamento della pistola, ma né le indagini né il processo celebrato con rito abbreviato hanno fatto emergere alcuna prova in grado di sostenere l'ipotesi del proiettile esploso intenzionalmente. Il carabiniere, al contrario, si è verosimilmente sbilanciato, forse inciampando nel marciapiede, perdendo così l'equilibrio e operando un'involontaria pressione del grilletto, scrive il giudice. Inoltre, nelle motivazioni della sentenza, vengono prese le distanze dalla dichiarazione di alcuni testimoni, tra i quali alcuni amici della vittima, definiti di volta in volta contraddittorie, inattendibili e inverosimili.